Oh mio Dio, questo è un cavolavoro. Ciao a tutti, io sono Ruggero, detto anche al figlio dell'amore eterno. Ringrazio dopo tutto il mio cuore Francesco Fiumarella per avermi attribuito questo premio, anzi per averci attribuito questo premio. Il premio Vincenzo Procitti International 2021. Ammazzate. Love, love, love. Tutto per te Francesco. E anche tutto per te, il mio premio. Grazie, grazie a tutti. Love, love, love. Au, è il premio Vincenzo Procitti. Con questo io ho faccio strano. Ringrazio con tutto il cuore Francesco Fiumarella per avermi attribuito questo premio. Spero che ci hai piatti e chiacchierate. Va bene. Grazie Francesco. Un bacio. E anche te vanno sempre strano. Con questo problema allunga le gambe, gli stempe, le gambe, larghe, le gambe, 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 le gambe. Oddio, scusate, scusate. Ma, ma che è sta roba qua? Premio Vincenzo Procitti International? Vincenzo Procitti International? In che senso? Tante grazie Francesco Fiumarella per questo premio. Vincenzo Procitti International? Vincenzo Procitti International? Fierissimi. Tu mi adori? E allora vedi che la cosa è reciproca? Perché io ti adoro tantissimo. Un bacio a tutti da Furio. Eccoci. Sono io, Gioele Serpilli, con la mia voce. Questo per dire grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie fra che hai creduto in me fin dal primo momento e grazie a tutti innanzitutto, ma grazie soprattutto a te di avermi attribuito questo fantastico premio di cui ne vado e ne andrò sempre fierissimo. Grazie. Un bacio da Gioele Serpilli, alias imitatore di Carlo Verdone.